Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e oggi volevo parlarvi di una cosa un po' particolare. Anzi, molto particolare. Prima di tutto non fate caso i miei capelli, me li dovrò tagliare, spero presto, da solo quindi sa cosa verrà. Comunque, di cosa volevo parlarvi oggi? Sicuramente l'avrete capito dal titolo. In pratica io, giorni fa, entro in camera mia e mi trovo questo davanti. Cioè, guardate, vi rendete conto? Ecco. Io in quei giorni stavo cercando delle carte, cioè, stavo sistemando casa, cercando anche carte Dragon Ball e Pokémon che avevo perso, perché ne ho perse tante. E mi ritrovo questo. Mia mamma mi ha ritrovato in un suo armadio tutte queste carte qua, non so cosa ci facessero lì. E quindi ho detto nulla, devo per forza farci un video e mostrarle a tutti. Perché sono carte vecchie e veramente belle, anche se purtroppo ho tenuto un po' male. Voi ricordatevi, come al solito, di lasciare like, commentare, condividere, iscrivervi al canale. Passate dal profilo Instagram per rimanere sempre aggiornati su tutto. Lo trovate anche in descrizione e attivate la pannellina per non perdervi nessun video. E soprattutto, mi raccomando, iscrivetevi e condividete, perché ho aumentato una cosa per i 300 iscritti, che è tanta roba, e ne mancano solo 5. Quindi, cioè, solo 5, raga, vedete un po' voi? Arriviamoci alla svelta. Detto questo, cominciamo che davvero non vedo d'ora di farvi vedere tutte queste carte. Bye! Ecco qua tutte le carte che ho ritrovato. Che poi non ci sono solo carte Pokémon, tipo, dietro ci sono anche delle figurine decalciatori dell'album del 2011-2012, cioè, vecchissime. Cioè, questa arte è più o meno dalla quinta elementare, che non le trovo più, almeno. Vi faccio vedere un mazzo per volta, sono tutte in disordine, alcune girate, alcune capovolte. Che poi, questa è una busta tipo per i trucchi, no? Quindi profumano un sacco di cipria e cose varie, trucchi. Cioè, guardate che mazzo. Ah, vi faccio vedere. Cetto di involuzione. Qua abbiamo Lotad. Giriamo tutte queste carte qua. Lotad. Carvagna. Specie Delta, tra l'altro. Ivisaur. Energia acciaio, energia normale. Questa energia fuoco, ragazzi. La carta più potente. Raga, questa... Questa non ce l'avete. Non vi dico di che è questa carta, provate a indovinarlo scrivendo nei commenti. Comunque, poi giriamo queste qua. Mistregus. Staravia. Queste sono, vedete, le carte tipo di quarta generazione, anche Pokemon di quarta generazione. Numel. Energia Terra. Electric. Orsi, specie Delta. Manectric. Fraxur, raga, guardate. Olo. Di nero e bianco. Era di un set tipo... Di un set particolare dove c'erano solo carte di tipo Drago. E nulla, è veramente tanta roba. Poi queste giriamole. Quante ce ne sono tutte girate? Mi sa di sì. Allora, giriamole così. Almeno le vedete meglio. Abbiamo Beldum. Squirtle. Infernape. Del Super 4. Cioè... Tartwig. Tiranitar al 61. Seaviper. Pishu al livello 8. Larvitar. Cabchou. Stankfisk. Gastly. Le energie acciaio. Queste, raga, sono le energie di nero e bianco. Guardate che spettacolo. Con tutti questi quadrettini bellissime. Scyther. Eevee. Combaskin. Torchic. Charmeleon. Charmander. Dodrio. Doduo. Tor Terra. Guardate quanto è bello questo Tor Terra Reverse. Questo è veramente bello. Tor Terra è lo starter che avevo su Platino. Prima di perderlo. Grothal. Tartwig. Olon. Electrod. Cioè, guardate con l'energia arcobaleno qua. Vedete? E uguale Voltorb. Olon. Voltorb. Poi abbiamo Riolu. Lucario. Al 42 bello Lucario. Hunter. Combi. Tartwig. Fungus. Abbiamo Shelgon. Weedle. Champluff. Shinx. Bellissimo ragazzi, io adoro Shinx. Luxio e soprattutto Luxray. Combi. Trico. Grovile. Reverse. Seedot. Poi queste qua le giriamo. Abbiamo. Ecco, energia a fuoco, un sacco di energia a fuoco, anche della prima serie, perché vi spiego. Io avevo un Infernip, no? Che in pratica toglieva tipo 20 punti per ogni energia a fuoco assegnata a quel Pokémon. Ogni a tempi pensavo, vabbè, te spami energia a fuoco sul Pokémon e gliele butti tutte così, e pensavo di togliere tipo miliardi, e invece no, anche perché proprio l'Infernip lo perso non l'ho ancora ritrovato. Blitzle del McDonald, di quando ci... Cioè, c'erano le sorprese nell'Happy Meal di Pokémon. Poi vi vediamo anche le figure dei calciatori, le diamole. due energie, Psycho, Chatot, poi Elgem e Snorant, Fungus, Patrat, queste le giriamo. Scambio, Sharpa, Salvagente, Bell, Plus Potenza, Ducklet, Ipom, Dwebble, Magikarp, Shinx, un'altra energia a fuoco, l'energia arcobaleno, bellissima. Altre energie a fuoco. Poi, energia a erba. Tante energie a erba, non mi ricordo perché ne avessi così tante. Fuoco, erba e erba. Passiamo adesso al prossimo mazzo. Comunque fra quelle dei calciatori c'era anche lo scudetto dell'Udinese. Bella sta carta, brilla parecchio. Secondo mazzo, raga, vi giuro, odorano un sacco di tipo cipria. Giriamo queste qua, che tanto, queste sono tutte rigirate. Allora, mettiamo queste qua. Abbiamo Scraghi, energia a fuoco, codice, energia a erba. Ecco, l'energia a erba, questa qua di nero e bianco, quelle hanno tutti quadretti. E dovrebbe esserci anche l'energia a fuoco uguale, comunque. Giriamo queste. Recupero totale, scambio di energia. Questa energia acqua, bellissima, raga. Non so a quale espansione appartenga, però è veramente bella. Bella, bella. Poi abbiamo Sfil, Golet, Professoressa Rale reverse. Queste le giriamo. Martello di rompente, Mincino, Pidav, Skitty, Tangela, livello max, Snover, Pansier, Joltik, Ninkada, Energia Psico, Veniped, Yamask, Timbur, Sissiwaddle, Sissiwaddle, Sigilif. Poi, giriamo. Mincino. Forse chi mi ha dato questa carta non amava molto l'energia normale, visto che l'ha cancellata. Maractus, Duskul, Phoebas, Rock'n'Rola, Litwick. E qui passano molto ambulanze, che palle. Poi Litwick, questa qua c'è l'ha anche Olo. Rattata, Roselia, l'energia a buio, tipo della seconda serie di arte, non proprio seconda, comunque vecchissima. Slachot, Pupa di Olon, specie Delta, Pokeball, Slowpoke, Grovelight, la prima serie, Energia a buio, Swainub, Zupat, Mashop, Magby, Moon del McDonald rovinatissima, Lillipup, Lillipup, Pidav, Veniped, Timbur, Stantler, Wingull, Cricketot, Staryu. Ok, poi raga, mi hai spiegato una cosa. Che differenza c'è fra quelle che hanno questa cosa sotto, questo margine giallo sotto, e quelle che non ce l'hanno tipo Staryu? Se me lo spiegate, mi fate un favore. Merib, Castform, Olo, di Ex Specie Delta. Guardate che spettacolo. Tanta roba Castform. Poi abbiamo Sandile, Veldum, Trabbish, Driflun, Pampur, Oshawott, Sfil, Solosis, Petilil, Timple, Darumaka, Gotita, Wubat, Clink, Energia e Fuoco, compreso quella tutta con i quadrettini, e finisce l'Energia e Fuoco. Ho contato in tutto una ventina di Energia e Fuoco, solo per quel maledetto Infernaip che poi ho perso. Bene raga, queste sono le carte Pokémon che ho ritrovato. Spero vi siano piaciute e che vi sia piaciuto questo video. Ci se ne va a farvele vedere perché comunque è una cosa strana ritrovare così tante Pokémon tutte insieme. Poi perché sono vecchi, cioè sono tutte sparse, erano tutte rigirate. Fatemi sapere cosa ne pensate, ricordatevi come al solito di lasciare like, commentare, condividere e iscrivervi al canale. Passate dal profilo Instagram per rimanere sempre aggiornati su tutto e attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Ricordatevi soprattutto di iscrivervi e condividere perché a 300 iscritti uscirà un bellissimo speciale. Detto questo io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao raga.